il Palazzo della Sede Questo li usiamo Allora mi chiamo Inea, ho 27 anni Sono alto un metro e 78 metri. Sono un super mega ragazzo, dolce, romantico. Sai che sì? No, sai che sì. È un ragazzo incredibile. Di un'energia unica, frizzante, come dice lui. Lui, più di tutto, giochi della rettima fidanzata. Non riesco a trovare ancora una ragazza perché sono un po' picchiatello. Per la vacanza dopo ho conosciuto la mia ex morosa Alessandra. Avevo voglia di fare l'amore sul lato, ma non l'abbiamo fatto. Mi sono piaciute le ragazze. Alessandra! Mi sceglie la valentina. Daphne! Elena! Davio, c'è una soffia di polizia. La Cerci! Lei! Anna! La Camilla! Con i tuoi, i tuoi, i tuoi. La mattina con questa. La chiudiamo! Ha 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 ha! E non è certo, c'è. E bisogna portarlo... Dove? Io un'idea però ce l'avrei. Da qui, scordatelo. All'estero. Sai che le cose vanno decisamente meglio, no? La.. Not. Grazie a tutti.